Con il presente video approfondiamo la figura dell'assistente tecnico di laboratorio. Cerchiamo di capire chi è, cosa fa, come si può diventare assistente tecnici e quanto guadagna. Buongiorno, sono Luisa Treccani, un'insegnante di filosofia e scienze umane, esperta di legislazione scolastica, che sta cercando di applicare la legislazione scolastica all'interno delle scuole in chiave pedagogica e didattica, perché questo la rende maggiormente applicabile e soprattutto più funzionale alla sua realizzazione. Se siete interessati a questi approfondimenti potete iscrivervi sul mio canale YouTube e cliccando sulla campanella riceverete una notifica ad ogni nuovo video. Con il video odierno approfondiamo la figura dell'assistente tecnico di laboratorio, una figura che rientra nel più ampio settore del personale ATA, quindi personale amministrativo tecnico ausiliario all'interno delle istituzioni scolastiche, che ricopre un ruolo ben preciso. Innanzitutto è importante chiarire come le diverse aree nelle quali si articola il personale ATA vengono descritte all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, l'ultimo dei quali è stato firmato nel 2016-2018. Che cosa fa l'assistente tecnico di laboratorio? Innanzitutto, come tutto il personale ATA ha alcune mansioni e attività che sono specifiche del proprio profilo di appartenenza e altre che invece vengono definiti in carichi specifici, perché in carichi aggiuntivi che prevedono una responsabilità specifica per dare attuazione al piano dell'offerta formativa triennale di una scuola. Sia l'una che l'altra di queste mansioni vengono esplicitate e descritte all'interno di un documento che è il piano annuale delle attività del personale ATA, elaborato all'inizio dell'anno dal direttore dei servizi generali amministrativi, cioè il DSGA di una scuola, sulla base delle indicazioni delle linee di massima fornite dal dirigente scolastico. Peraltro questo piano annuale deve essere condiviso con tutto il personale, pertanto ad avvio anno, una volta elaborato, il DSGA convoca in una riunione tutto il personale ATA e a seconda del profilo di appartenenza approfondisce quali devono essere le mansioni che ha ipotizzato per l'anno in corso e pertanto può essere oggetto anche di discussione e di confronto. Nello specifico l'assistente tecnico di laboratorio è quella figura che lavora all'interno di un laboratorio specifico all'interno della scuola presso il quale è stato preposto e quindi a seconda della tipologia di indirizzo o delle necessità della scuola si può essere assegnati ai diversi laboratori. Accanto adesso come vi dicevo ci possono essere poi una serie di attività che vanno oltre l'ordinaria manutenzione e gestione del laboratorio e quindi rientrano in attività aggiuntive legate all'attuazione del PTOF. Nel primo caso il compenso è legato alla mansione di appartenenza e quindi è quello dato dallo stipendio. Nel secondo caso, cioè gli incarichi specifici, possono essere attribuiti per una serie di necessità della scuola proprio per dare attuazione all'offerta formativa e pertanto prevedono un riconoscimento economico aggiuntivo che può essere individuato o all'interno del fondo di istituto e quindi viene esplicitato nella contrattazione di istituto che viene discusse e sottoscritta tra il dirigente scolastico e le RSU. Pertanto se voi rientrate in questa casistica riceverete un incarico che viene attribuito dopo la firma del contratto di istituto e tutte le informazioni legate a questo incarico le trovate anche nel contratto di istituto della vostra scuola. Se invece non rientra nel compenso dovuto dal contratto di istituto può rientrare in un compenso più stabile che si può ritrovare nella busta paga dell'assistente tecnico che è frutto di un corso di formazione organizzato dal ministero che permette a queste persone di essere titolate ad assumere questi incarichi in più e pertanto si stabilisce che stabilmente all'interno dello stipendio si ritrova questo incarico aggiuntivo che permette però alla scuola di richiedervi delle mansioni aggiuntive. Questa partita non è sempre stata periodicamente organizzata dal ministero ma ci sono stati alcuni periodi di calma. In diversi periodi però del corso delle varie stagioni sono stati avviati proprio questi percorsi per consentire al personale ATA di accedere a questi incarichi in più. Come si diventa assistente tecnico? Allora innanzitutto per poter accedere allo specifico laboratorio che si trova all'interno delle varie istituzioni scolastiche bisogna godere di un titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado specifico e quindi a seconda del laboratorio al quale si intende accedere ci sono specifici titoli di accesso. Chi regolamenta questi titoli di accesso? La regolamentazione di questi titoli di accesso si trova nel momento in cui c'è l'apertura e l'aggiornamento delle graduatorie. Infatti la possibilità di accedere al mondo della scuola avviene attraverso delle graduatorie che sono da prima le graduatorie d'istituto utili ad assumere le supplenze brevi e saltuarie o incarichi annuali, supplenze che sono finalizzate a accumulare appunto servizio oltre che sostituire il personale assente. E dall'altra parte una volta raggiunti 24 mesi di servizio, cumulati anche in maniera discontinua, si può raggiungere l'inserimento in un'altra graduatoria che è la graduatoria permanente provinciale, denta anche sinteticamente graduatoria dei 24 mesi, proprio perché per accedervi servono 24 mesi. Attraverso questa graduatoria si può accedere agli incarichi annuali e all'ambito ruolo, perché viene utilizzata proprio per immettere ruolo. Quindi capite che la strada da percorrere è quella di inserirsi all'interno di queste graduatorie. Se siete interessati a capire come funzionano nello specifico, potete consultare il video di cui trovate il link qui indicato, proprio perché hanno un funzionamento tutto particolare e devono essere costantemente aggiornate e non perse come appuntamento importante. Una volta entrati in questa graduatoria, come vi dicevo, si può accedere a ruolo e si accede a ruolo a seconda del titolo al quale si, appunto del titolo al quale si possiede. Recentemente è stato interessante anche un intervento soprattutto legato alla situazione di difficoltà delle scuole dovuta alla pandemia. Intervento che ha incrementato la presenza degli assistenti tecnici di laboratorio. Infatti storicamente questa figura era inserita esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado, proprio perché a seconda dei vari indirizzi di studio si trovavano diverse attività di laboratorio. Grazie alle necessità soprattutto di utilizzo delle nuove tecnologie si è reso necessario incrementare la presenza di queste figure professionali anche nel primo ciclo, quindi negli istituti comprensivi. Infatti negli ultimi anni è stata incrementata la presenza di queste figure, anche se per ora in numero ancora limitato, che devono proprio supportare le esigenze in vista dell'utilizzo delle tecnologie delle varie scuole, per cui c'è stato un leggero incremento di posti nelle varie istituzioni scolastiche. Entriamo adesso nel vivo di quale è lo stipendio di cui può godere l'assistente tecnico. L'inquadramento dell'assistente tecnico, come tutto quello del personale ATA, cambia a seconda dell'anzianità di servizio. Infatti man mano che si cumulano anni di servizio varia lo stipendio e le diverse fasce stipendiali che sono regolamentate all'interno della scuola sono la fascia 0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e 35 anni, che è l'ultima fascia stipendiale. Lo stipendio naturalmente in godimento per l'assistente tecnico durante le supplenze è quello della fascia stipendiale 0-0, quindi della fascia di ingresso, e rimane tale fin tanto che una persona ha un contratto a tempo determinato. Infatti per poter vedere modificato il proprio stipendio bisogna attendere di essere chiamati in ruolo e superare il periodo di prova. Questo permette di presentare una domanda di ricostruzione di carriera che consente di riconoscere il servizio per il ruolo e poter via via o avvicinare la fascia stipendiale più alta o addirittura, se si sono cumulati più anni, riaggiungere già la fascia stipendiale successiva. Nel caso della fascia stipendiale 0-0, che appunto è quella di accesso iniziale, il personale assistente tecnico di laboratorio gode del medesimo stipendio dell'assistente amministrativo, che quindi corrisponde a 17.272 euro lordi annui, che corrispondono mensilmente a 1.439,33 euro per 12 mensilità più la tredicesima. Mentre via via che si accumula l'anzianità si può arrivare, come vi dicevo prima, alla fascia stipendiale più alta e quindi è interessante vedere quale può essere lo stipendio massimo di cui può godere un assistente tecnico, che è di 22.342 euro lordi annui, che corrispondono a 1.861,88 euro mensili per 12 mensilità più la tredicesima. Naturalmente questo stipendio riguarda esclusivamente lo stipendio tabellare, quindi la parte che, come vi dicevo prima, identifica le mansioni e le attività specifiche del profilo e quindi non include quelle attività aggiuntive che, vi dicevo, possono essere date con incarichi specifici all'interno della scuola. E inoltre guarda una situazione standard, quindi non tiene conto di possibili detrazioni che permettono pertanto di abbassare la tassazione, piuttosto che di altri benefici come possono essere l'assegno unico per i familiari, per i figli o compensi per i familiari a carico. Quindi la situazione descritta è quella di una situazione standard, essendo poi la specificità di ciascuno molto particolare non possiamo addentrarci in tutte le specificità che possono caratterizzare uno stipendio.